Vedans et messieurs, ladies and gentlemen, signore e signori, per voi il mio assistente, messieurs Plastique! No, 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 il messieurs Plastique è là, guardatelo signore, eccolo qua, bonjour messieurs Plastique, lo vedete? Messieurs Plastique, prendo un cappello, lo tiriamo e facciamo... Toc, dall'altra parte, uuuh, toc, uuuh, toc, e per finire, uuuh, dedin, le scissor, tchic, signore e signore, messieurs Plastique, merci, grazie. Per realizzere, messieurs Plastique, avete bisogno di un sac a congelazione, avete bisogno di un sac per mettere la verdura e altre cose. Quindi adesso vi faccio vedere come funziona. Je vous montre come ça marche. Voilà, uvrez ici, uvrez ici, grazie a cette fermature, come ça, con lo zippo, voi chiudete, eccolo così, adesso è chiuso. Poi, prendete la forbice, vous prendete le scissor, e vous coupez cette partie là. Voilà, nous avons besoin ça, solo questo pezzo l'abbiamo bisogno. Adesso, questo lo mettiamo, adesso bisogna tagliarlo in due al centro. Ora, adesso bisogna la parte qui è in due. Voilà, e ce che vi ha visto, è questo qua, per fare messieurs Plastique, on en ha bisogno di solo un, l'altro, l'on lo levano. E' utilizzare la parte coupata, ecci, guardate bene. Voyez ici, là je ferme, e c'è che lui fa con il comes e l'index, il mexe. un plastico che vuole. Qui? 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 Et maintenant, Mesdames et Messieurs et Adesso, Messieurs et Messieurs, l'explication. Vous vous présentez, Messieurs, Plastique. Vous sortez des petits petits, des petits petits, des petits 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 la parte coupé, con il pus e l'index, e lo tenete direttamente, non bisogna metterlo così, non bisogna metterlo così, bisogna metterlo così, il pubblico vede questa parte qua, il pubblico vuole solo il coté di plastica. Allora, con il pus e l'index, pollice e indice, terminiamo così, facciamo fin di tirare un capello e un attache a 20 cm e facciamo fin di tirare, mentre che tiriamo, 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 il pollice, guardate, il pollice scende verso giù, quando lascio il il filo, l'indice scende giù, guardate, e viene dentro. Allora, io lo faccio, quando tirare il filo, il pus e descend, e l'index resta ferme. Quando lascio il filo, l'index il descend, guardate bene, hop, l'index è descendu. Allora, a partir de là, vous l'avete comprit, adesso avete capito come funziona, prendo un capello, lo attacco, metto a 20 cm e tiro, puff, puff, si può tirare dall'altra parte, a questo punto è l'indice che scende, a questo punto là, c'è l'index che descend, uuuu, tac, uuuu, tac, e maintenant, on fait le ciseaux, e adesso facciamo le forbici, tiriamo, 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 tiriamo e mettiamo il filo dritto dentro i denti, on mette le filo contro le dos. On va chercher le ciseaux avec la main gauche, andiamo a cercare le forbici, nella tasca, facciamo così con le mani, come è una forbice, on fait comme ça avec les mains, et on coupe. Poi, alla fine, alla fin, on mette le plastique de face comme ça, mettiamo il signore plastico di fronte e salutiamo il pubblico. E quando salutiamo il pubblico, l'indice scende, guardate, oh, merci, grazie, merci, voilà, monsieur plastico.